A1-A11 A1-A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze In A12 verso Genova sul versante Ligure 3 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la A15 Sulla Fipili in direzione Mare Code a tratti tra San Mignato e Santa Croce sull'Arno E tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Aeroporto Entrambe provenendo da Firenze Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!